Posizionare il fattore d'acquisto su se stessi, questo in realtà può essere fatto, vedremo poi degli esempi, c'è anche Simone, ma vedremo anche altri esempi, persone comunque che utilizzano il proprio personal brand per spingere la propria attività, anche uno Stefano per esempio, però qual è il problema? Che tante volte vedo dei saloni, mi chiamo Mario Rossi, il salone si chiama Mario Rossi, torniamo sempre lì, questa roba qua è da due anni che la diciamo, se in ugual modo il mio fattore d'acquisto è legato alla mia persona, cosa succederà? Succederà che quando il cliente entra vuole te, perché là fuori gli hai promesso come prima cosa te, e se io entro voglio te, fine, mi mandi la tua collaboratrice, se mi mandi la tua collaboratrice non pago l'istino pieno, ma pago l'istino per la tua collaboratrice, perché io sono entrato per te e tu mi hai dato qualcun altro, se mettete voi come persona principale, quello che rischiate di ottenere è che le persone quando entrano basano tutto su di voi, voglio essere servito da lui, voglio che mi faccia la consulenza a lui, voglio che mi faccia il taglio a lui, voglio che mi faccia la piega a lui e via dicendo, e in questo modo, in realtà perché c'è gente che ci sopravvive con una cosa del genere? Perché il personal brand, tra virgolette, trasmette molta più fiducia, se io vedo una persona, vedo la faccia di una persona, sono più predisposto a fidarmi, perché c'è la faccia, se invece c'è il brand di un salone è logico che magari ho bisogno di un po' più di tempo per fidarmi, però c'è gente che ci sopravvive, sì, ma c'è gente che fa delle levitace, perché poi a un certo punto quando tutto gira attorno a me, mi viene più difficile delegare, mi viene più difficile magari, che ne so, ampliare la mia attività, perché non posso aprire altri saloni, come fa, ho bisogno del dono dell'ubiquità, e quindi rischio di limitare il mio business e, tra virgolette, farmi esaurire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.